ciao a tutti amici eccomi ancora qua tano tv per voi volete sapere delle novità dei nostri zengavo allora restate con me ricorda metti un like iscriviti al canale tano tv attiva la campanella per vedere i nuovi video appena escono riaccoci qua amici miei allora ci sono delle novità i nostri zengavo sono sempre più innamorati i nostri zengavo stanno sempre insieme si vogliono sempre più bene e si amano tantissimo adesso vi faccio vedere quello che è successo proprio in questi giorni per il momento passeggio con chino che tira come cavallo però tendiamo ragazzi oggi sono felicissimo di mostrarvi i miei nuovi compagni di viaggio per la mia skin care i prodotti nivea man sensitive per la cura della mia pelle barbara quale sapete che tengo moltissimo quindi adesso vi faccio vedere le applicazioni spaviamo questo falso mito che il balsamo dopo barba può essere usato solo per chi mantiene una barba a rasatura completa io la barba corta e serve anche e soprattutto per idratare la pelle che rimane sotto la barba non viene mai idratata ora la crema idratante questa si utilizzata per le parti dove non è presente la barba e va utilizzata in qualsiasi momento della giornata diciamo la mattina per risvegliare un po la pelle oppure anche la sera prima di andare a dormire ho una sorpresa per voi nei prossimi giorni parteciperò ad un experience esclusiva grazie a nivea man a madrid ma la cosa bella è che potrete vivere anche voi partecipando al concorso di nivea man vario fino al 7 maggio basterà acquistare 10 euro di prodotti nivea man cui almeno un prodotto barba dopo barba a cura viso inserisci i dati dello scontrino sul sito e scopri subito se hai vinto una maglietta ufficiale del real madrid potrai poi partecipare all'estrazione finale di un weekend all inclusive per due persone a madrid e ovviamente c'entrano il santiago bernabeu e il real madrid ci vediamo lì buongiorno timino oggi siamo soli il papà è partito e adesso andiamo a fare la pappa e la pappa come non detto ho deciso alla fine di iniziare con steven king ero attratta da un po di tempo da questo libro e devo dire che adesso qualche oretta prima di andare ad un evento ho deciso di iniziare con questo l'inizio un pochino lento però mi hanno detto che appunto steven king io non lo conosco molto bene a parte film inizia lento e poi in teoria dovrebbe diventare più più incalzante il ritmo quindi me lo auguro e vi faccio comunque sapere perché vi vedo particolarmente interessati alla lettura e questo mi fa molto piacere quindi ci scambieremo se vi fa piacere le recensioni e questo mi fa piacere le recensioni mi fa piacere le recensioni mi fa piacere le recensioni ma ti sembra normale svegliarmi alle sette di sabato mattina c'è pure delle caccole negli occhi bene amici miei siamo arrivati alla fine del video avete visto come sono innamorati i nostri zengamo ho beh adesso io vi saluto vi ringrazio di essere stati con me e noi ci vediamo molto presto da tanno tv bene amici bene amici bene amici